In Berlina, l'arbre ha fatto il cadizzo. Come già stato detto, il Porto di Trieste lavora con tutta l'Europa, Germania, Austria, Algeria, Polonia, Cecchia, Slovacchia per cui anche possiamo garantire che questa linea avrà la promozione commerciale più importante. In Berlina, l'arbre di Trieste lavora con tutta l'Europa e l'arbre, e l'arbre di Trieste lavora con tutta l'Europa. Prima di tutto questo è un ponte tra Italia e Egitto e anche personalmente sono molto contento e felice e onorato che finalmente si tirano in questo accordo che ci permetterà di creare una linea importante tra i nostri paesi. Grazie e buon lavoro. Grazie e buon lavoro. Grazie. Snape. Grazie Sentiamo in tal trimestre. Grazie Grazie Buon lavoro insieme ad divorzare i latinieri e del heli del Consiglio nell'Europa non di tutte le crospitate del Polo. Soida Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti